No, regà! No, regà! Dovevo ridere? Ma what? Regà! Toni, iniziamo! Dovevo iniziare! Non metto una sbagliata. Aiuto! No, dai! 3! 2! 2! No, regà, ho sbagliato! No, regà, ho sbagliato! Ma dove stai? È lì! Madonna mia! Sì, è alla mia terra! Ma Toni? No, ma perché io mi... Ma scusa, ma stai registrando? Mi sto disconnesso. No! Da un'ora che sto registrando, ma siete sce... No, va bene. No, dai. Ma io mi sono disconnesso, iniziamo, non ho capito il gioco. No, dai, ma dopo. Cosa che non è entrato nessuno? Sono noi! Non ho capito il gioco. Ah! Aiuto! Aiuto! Iniziamo! Iniziamo! E lì! Fermi voi due! Regà, iniziamo! Ok. Ok. Siamo calmi! Silenzio! Bruno! Silenzio! Non si, non mi... 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 Vabbè! Oh, aiaia! Mi sono fatta male! Ok. Tre! Siediti, cioè, certo. Toni, è vicino a me? Ma dove si... Sì, certo. Io allora mi metto qua. Mi faccio una corretta. No, non è vero. Scraggio! Ma muoviti! Ok. Vabbè, dai. Allora, iniziamo. Regà, ma che siete a fare? Dobbiamo fare la miniatura? La miniatura, sa che un bel... Va bene! Oh, aiaia! Le orecchie. Ok, iniziamo. Ciao! No, regà. No, va benissimo! Va benissimo! Ciao a tu! Raghi, io ho visto una cosa bella. Vabbè, iniziamo, dai. Tre, due, un... Ciao a tutti i dog! Ciao! No, dai. Regà, facciamo i sedi per una volta. Aiuto. Ecco, brava. Vedi, mi porto a so cosa in arrivo, stai tranquilla. Mi sono fatta la calma. Raghi, iniziamo, per favore. Sì, i doghi. Vabbè, dove? Tre, due, uno. Casa mia. Quella è casa mia! Già! No, ci posso fare la calma. Ma ne manca io! Ciao a tutti! Sì, bello! Tutti? Sì! Vabbè, allora, regà, ma che facciamo? Oggi sono in compagnia di Torni. Sì, ma che facciamo? Ti sei dimenticata della mia esistenza? Ti basta sapere che sei in compagnia di Torni e puoi fare tutto l'universo. Raga, ma che facciamo oggi di video? Regà, posso capire che cosa dobbiamo registrare? No! Oh, se non lo stai tu, come lo devo sapere io? Appunto, fantastico. Non è mica nostro. Torni, ma anche tu devi avere idee per il tuo canale. Lo so, ma io poi ho paura che tu me le stuccheri. Non è vero, ma chi non ti fa la panna da cocco? Ok, dai, regà, venite a scuola. A scuola. A scuola? Facciamo così, dai. A scuola! Non ho fatto i compiti di matematica. Io non li capisco proprio, ti credo. È vero, anch'io dico che non li capisco. Sì, sì, certamente. Cioè, metterò soprattutto. Ecco. È vero. Aritmetica. Guarda! Sì, sono fatti. No, la visuale si è fatti. Guarda! Che schifo! No, no! No, senti, non cambiare, hai capito? Hai capito chiuto? E che la family mi sono dimenticata. Aha, l'ho cambiato io. No! È schifo! Ragazzi, dobbiamo registrare! Ho mezzo 60, 30 anni. Aspetta, allora... No, la bolla a telefono. Allora, chi puzza i miei piedi? A Tony! Ecco, a Tony. A Tony! Mi picco, sono puliti come i fiori. Sono un fiorellino. La punza nei piedi. Declina, va. Ma perché? Ti decliniamo, cioè, eh. Ragazzi, ho scoperto l'universo. Una milla. Bravo. Rekà, dobbiamo registrare! Non abbiamo tempo! Io tra un po' me ne devo andare. Ma anche io. Non registrare domani. Ecco, telefono! Bravo! Grazie! 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 Ok. Sono pare la suonerietta. Ecco, appunto. Regà, venite! Vai, iniziamo. Appuzzano i piedi, raga. Iniziamo. Appuzzano i piedi. Iniziamo! Ok. Miley? Miley? Io sono morta. Fallo bene, però, eh. Fallo bene. Ok. Fidati, io ti seguirò in tutto. Mi sei buggato. Appunto. Ok, ragazzi. Potresti accettare sta cavolo di family, per favore? Mi è arrivata! Ok. Grazie, gentile. Ragazzi, facciamo bene, fidatevi. Poi io vi seguo, ok? 3, 2, 1, 2! No, vabbè, io già faccio. Ma anche io. Allora. Ma che Lorenzo? Come si chiama? Perché Lorenzo? Perché Lorenzo è Lorenzo. Ok, ok. 3, 3. Franziaskio. Sì, Francesco. Ok, ciao Francesco. Franziaskio! Ok, appunto. Doggy, falla bene la intro. 3. Io ho un'idea per migliorarla. 1. Let's go. Ciao a tutti, Doggy. Io sono Doggy, Doggy, Doggy Color. E non so perché sto facendo questa cavolo di foto. Che frittis! Ciao! Frittis! Mi sono posizionata da te lì, me lo scappo! Scappo, mi sta riseguendo! Ma sta riseguendo! Mi sta riseguendo! Mi sta riseguendo! No, si sono rubato il mio! Ok, ok, rieccomi, rieccomi. A parte questo, piccolo. Allora, ragazzi, facciamola bene. Perché è stata l'ultima volta perché non voglio pre-registrare. Sennò... Chiudo il canale! Chiudo il canale! No! Ok! Nel dubbio, Cagni U! 3. 2. 1. Ok, let's go! Ivano, Ivano! Ok, let's go! Allora... Ti fate capire perché... Ciao a tutti i doggy! Anzi, no, ciao a tutti i baby! Ah, è vero, il tuo canale! Allora... Dovevo creare delle magliette! Ok! Oh! Schifo! Ma è schifo! Sei tu schifosa! Allora, raga, vai! Iniziamo! Cadono i telefoni! Ok, raga, iniziamo! 3. 2. Non è vero, io spacco il canale! Musichetta! Raga, ma perché avete fatto partire la musica? Ok, io l'adoro! Ok, basta, se no... Seriamente, raga, qua non ce la facciamo più, eh! C'è il copyright! Eh, appunto, pure! E questo è il problema, se la metteremo sempre la musica! Ma... Ma che? Ma levatela! Ok, ragazzi, ora facciamola bene per l'ultima volta! Ciao, ciao! Ciao a tutti i doggy! Io sono Andaggy Connery, oggi siamo qui su Adopt Me! Ciao, ragazzi! Questo è il backstage delle cose! Ciao, ragazzi! Allora, seriamente, questi che mettono la musica... Mettono la musica e mi fanno il copyright! Grazie! Vi odio! No, non è vero, dai! È vero! E... Nada, raga! Sì, ok, grazie! Ulle! 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 Allora, quindi, ragazzi, questo è stato un video dei 500 iscritti! Noi vi ringraziamo un sacco! Certamente noi non è che facciamo sempre così! Ma abbiamo aggiunto un po' di rostro, ecco! Deciame! Cioè, abbiamo un po' aggiunto un po' di... Pazzia! Tratto malissimo, Tony! Sì, vabbè, le diamo i calci... No, non è vero, dai! No! Ma a parte questo, noi ragazzi vi salutiamo e ciao ragazzi!